Basta, mi sono stufato, siamo qui da mezz'ora. Descrivetemi il colpevole o sarete indagati per favoreggiamento e rischiate una condanna da 1 a 5 anni. Ma perché ci trattenete qui? È per l'incidente di questa sera o per qualcos'altro? Jesse, diciamogli tutto, così magari ci lascerà andare. No, sono io che decido quando andate via. Qui le domande le faccio io e sai benissimo perché siete qui. E dovete dirmi chi è, descrivetemelo. Dai Jesse, diciamogli tutto. Non mi interessa cosa ci facevate qui a luna di notte, vicino al cimitero. Voglio solo quel nome. Ispettore, ma noi non abbiamo visto nulla, glielo giuro. Oh, se non glielo dici tu, glielo dirò io. Allora, ditemi chi è fra queste due. È questa o questa? Ma allora Ispettore non ha capito proprio nulla. Noi siamo ciechi. Wah, 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 wah.